Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Questi sono tutti i regali di Natale E oggi è 25 dicembre Quindi ditemi cosa state facendo sotto ai commenti E buon Natale Ora vi farò vedere tutti i regali passo passo Ho ricevuto questo scatolo di 325 trucchi di magia E contiene tutti questi trucchi di magia Con i tutorial sulle magie Anche a video Poi ho ricevuto Trusur Detector Un gioco a caccia al tesoro In cui gli avversari devono nascondere la chiave e il tesoro Tu con un determinato tempo con un Metal Detector Devi indovinare dove è la gemma e metterla qua dentro Se l'hai trovata dentro 20 secondi vinto Poi ho ricevuto questa fantastica ciambella a cuscino Super morbida Poi questo microfono che si possa collegare al bluetooth E fa la musica tra tutte e quattro le casse E parlare contemporaneamente con la musica Poi questo laboratorio degli adesivi profumelli In cui ci sono già delle bozze dentro Tu le colori con questi panarelli profumelli e li fai diventare sticker Il tuo stesso procedimento lo puoi fare magari stampando le tue foto E disegnando altre cose Successivamente questa radio Piccolina piccolina Qua ci metti le pile E puoi sentire le stazioni della radio tutte E anche con il volume Poi per ultimo ma non per importanza I più grandi esperimenti della scienza Che ci sono oltre 100 attività Tra cui la paleontologia Il magnetismo L'ottica La geologia La biologia L'astronomia La botanica E la chimica E contiene tutte queste cose Ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto Se è stato così lasciate like Anche se non vi è piaciuto lasciate like perché è gratis Iscrivetevi Poi fatemi sapere nei commenti voi cosa avete ricevuto E al prossimo video Ciao